Io mi chiamo Virginia Moretti, sono docente ricercatrice per il Laboratorio Cultura Visiva del Dipartimento Ambiente Costruzioni e Design della SUPSI. Il mio ruolo in questo momento, in questa fase, è anche di collaborare con il corso di laurea in architettura ed interni per quanto riguarda la parte di docenza e per la ricerca, adesso mi sto occupando di questo progetto per il nuovo campus. Questo progetto è nato da una volontà molto forte interna al Dipartimento di mettere in valore determinate competenze presenti nel nostro Dipartimento rispetto alla costruzione del nuovo campus. Noi interveniamo in una fase successiva a questo percorso per quanto riguarda proprio gli spazi, l'abitazione degli spazi, l'appropriazione direi, vera e propria. Questo percorso passa per un'attività didattica molto interessante perché sono state messe insieme due realtà formative, il corso di laurea in architettura all'interno e il corso di laurea in comunicazione visiva, che insieme hanno lavorato e seguiti da docenti sui progetti per gli interni e proprio per la comunicazione visiva di questo nuovo campus. Il mio ruolo all'interno di questo progetto di cui parlavamo è quello di coordinamento del progetto, le realtà che ho dovuto coordinare sono veramente tante sfaccettate. Questo lavoro per noi non è solo portare a termine l'obiettivo, ma è anche di volta in volta valutare tutti i passi e capire là dove sono migliorabili, in modo tale da costruire anche un modello operativo futuro per altre attività analoge.